segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te gli italiani questa settimana buonasera buonasera innanzitutto abbiamo chiesto tenuto conto dei temi di cui si è parlato nelle ultime nelle ultime settimane se il governo meloni all'altezza della situazione i giudizi sono ovviamente polarizzati lo vediamo con il cartello 1 42 per cento ritiene che non sia all'altezza mentre il 41 per cento lo ritiene all'altezza giudizi ovviamente influenzati dall'orientamento politico qui lago dalla bilancia lo fa l'elettorato astensionista che come sappiamo il gruppo più numeroso nel paese poi abbiamo chiesto che cosa pensano di un altro tema su cui si è polemizzato molto nel corso della settimana il compleanno la festa di compleanno del leader della lega salvini in occasione della quale c'è stato un karaoke a cui hanno preso parte diverse persone tra cui appunto la presidente meloni e segretario salvini abbiamo raccolto alcune delle frasi due in particolare abbiamo chiesto con quale di queste due maggiormente d'accordo lo vediamo col cartello 2 il 44 per cento ritiene che sia stata una brutta scivolata che sarebbe stato meglio evitare questo episodio ma 40 per cento ritiene che non ci sia stato nulla di male e che in realtà c'è stato più una polemica strumentale 16 per cento non si è espresso e poi siamo passati a parlare di ellis line quindi la neo segretaria del partito democratico abbiamo chiesto come definirebbe ellis line lo vediamo con il cartello 3 per il 42 per cento rappresenta un'opportunità di rinascita del pd ovviamente tenuto conto del profilo della neo segretaria e dei temi che ha messo alla gente al centro della sua agenda e poi però invece un 31 per cento ritiene che sia un'altra leadership destinata a durare poco non dimentichiamoci che il partito democratico in 15 anni alternato 9 tra segretari e reggenti e 27 per cento non si esprime ultima domanda i temi economici sappiamo quanto siano al vertice delle priorità dei cittadini abbiamo chiesto al campione interpellato ieri sera se si sentono le persone interpellate tranquille rispetto a quanto sta facendo il governo per fronteggiare i problemi economici lo vediamo con il cartello 4 qui il 50 per cento non si sente tranquillo 31 per cento è piuttosto rassicurato vorrei sottolineare che sono soprattutto le persone che appartengono al ceto medio e le persone che risiedono al sud quelle che evidenziano il maggior livello di preoccupazione allora vi presento francesco prudenzano segretario generale di confintesa alessandro capecchi fratelli italia consigliere regionale in toscana il segretario del partito socialista italiano psi vincenzo maraio la sera e paolo panerai giornalista editore dirigente sportivo e libreria con le mani sull'informazione per solferino allora iniziamo da alessandro capecchi il dubbio se il governo abbia in mano saldamente le il timone del paese viene dalla conferenza stampa fondamentalmente di cutro un po di confusione guardiamo che mi pare che le risposte siano state chiare ok o perfetto secondo voi no e quindi voi state dicendo che c'è stata una volontà scusate scusate non è un dibattito non riesco a capire che cosa si ritiene allora faccio io prova prova a capire il problema ok scusa non è un dibattito no sì no 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 non puoi fare così però è non è professionale certo ma dopo l'incidente non prima dell'incidente abbiamo risposto il loro parto la ricostruzione in parlamento possono date scusate no 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 scusi sono io ho fatto confusione sul prima e sul dopo ok ok matteo c'è la ricostruzione che io ho fatto in ben cinque informative in parlamento sta sfuggendo qualcosa al governo sul tema informazione di immigrazione no io penso di no credo che ci sia una pressione che viene definita diciamo di stampo planetario quasi da tutti i mezzi di informazione i numeri sono triplicati da rispetto allo scorso anno siamo a circa 20.000 sbarchi rispetto ai 5.500 dello scorso anno complici le condizioni del mare complici probabilmente qualche manovra di qualcuno e tenta di destabilizzare non tanto non solo l'italia quanto l'europa certamente quello che è successo ha colpito tutti noi e lascia diciamo attoniti le le tragedie che succedono in queste condizioni d'altra parte credo che il governo stia mettendo in piedi una risposta che è coerente con quanto detto negli anni con quanto detto anche in campagna elettorale e gli effetti non si possono vedere certamente il voto triggio maraio rappresenta senz'altro il primo scivolone di questo governo e non a caso la protesta di piazza più cospicola abbiamo avuto a cutro contro la giorgia meloni questo ci dispiace ma non ci sorprende che proprio il tema dell'immigrazione sia il tema sul quale è caduto questo governo perché affronta questo problema quello dell'immigrazione con una posizione ideologica e non con una posizione politica d'altronde un governo che a livello europeo continua a chiedere il sostegno a sostenere l'alleanza con paesi come la polonia e l'ungheria contro invece la centralità dell'europa e poi chiede paradossalmente un aiuto per far fronte ai migranti è chiaro che un governo che ha poca credibilità mi chiedo che fine ha fatto la giorgia madre cristiana donna che si è voltata dall'altra parte rispetto ai bambini e alle donne morte a mare alle coste italiane così credo che sia come dire un po troppo provocatorio io voglio ricordare che l'inghilterra e la francia hanno annunciato due giorni fa un accordo per il quale l'inghilterra da 43 milioni di euro all'anno per rafforzare in francia e i controlli per evitare l'immigrazione clandestina e voi capite bene non è esattamente la stessa cosa ora arriveremo torneremo a maraio libica allora panerai il suo libro parla dell'importanza di informazione seria professionale profondamente libera che idea si è fatta del rapporto che a giorgia meloni con la stampa fino a quando è successo l'episodio di cui avete parlato il rapporto non era negativo nel senso che è sempre stata disponibile a rispondere a tutte le domande è chiaro che ha una posizione che non coincide con quella di alcuni giornali che sono in un caso soltanto assolutamente indipendenti cioè il Corriere della Sera gli altri diciamo hanno delle posizioni storiche molto forti che anche con un cambio di proprietà da Ingegnere Benedetti alla Fiat è rimasto anzi forse più marcatamente a sinistra probabilmente è una strategia di il presidente di Exor che controlla i tedi per poter essere coperto a sinistra. Vabbè però sempre domande sono possono venire da dovunque ma la domanda è domanda diciamo al di là di perché uno la fa poi uno se vuole risponde oppure no. Nando Pagnoncelli e Prudenzano anzi prima Francesco Prudenzano dal suo punto di vista questa vicenda dell'immigrazione cosa testimonia? Ma guardi in realtà è un fenomeno decennale non è che sta accadendo ora dei momenti aumenta negli altri momenti si riduce la sua intensità comunque la sua comunicazione mediatica io non penso che ci sia stata una premeditazione di nessun tipo per quanto riguarda queste ultime tragedie certo che probabilmente c'era bisogno di curare un po' meglio i particolari e c'era bisogno di curare meglio i particolari anche durante la comunicazione che è stata fatta. Buone le intenzioni per andare a cutro ma in realtà l'organizzazione il modo di esporre il modo di comunicare probabilmente ha avuto un difetto. Allora Nando Pagnoncelli il cambio di sapore di questo governo secondo alcuni osservatori c'è stato con la vicenda del karaoke cui facevamo riferimento noi diciamo c'è un aspetto morale il trovarsi a una festa e cantare la canzone di una donna morta annegata ma c'è anche forse un aspetto un po' più di sapore di casta noi siamo andati a vedere chi c'era guardi qui ci sarà bisogno di curare per la festa e cantare la canzone di una donna morta e non è ovviamente da più che c'è anche per la stessa E come tu e le nuve le cose Vivesti solo un giorno come le rose E come tu e le nuve le cose Vivesti solo un giorno come le rose Allora, Pagnoncelli, è così che nell'immaginario si passa da underdog a potenti della casta? Ma non direi, diciamo che questo episodio, l'abbiamo visto con i dati del sondaggio In realtà polarizza le opinioni Cosa significa questo? Che l'elettorato di centrodestra tende a giustificare questo episodio E l'elettorato di centrosinistra più una serie di altri elettori estensionisti In realtà esprimono riprovazione Però, ancora una volta, ci sono dei fatti Che radicalizzano le posizioni indipendentemente dal merito Non trarrei la conclusione che si passa da underdog a una situazione diversa Siamo ancora in quella fase nella quale il governo gode di un consenso decisamente elevato Tenuto conto del fatto che stiamo parlando dei primi mesi dall'insediamento Ci sono dei problemi Abbiamo visto che i temi economici preoccupano di più E sicuramente preoccupano di più rispetto a Karaoke La vera prova, i temi economici Ecco la Milano al caviale che ama trattarsi bene Ci sono quelli che possono permettersi Italiani, sì Lei non ha paura? Possiamo schiacciare? Schiacciamo allora Influencer su Instagram Gin Tonic e ristoranti Ha fatto fortuna E adesso si gode la vita Questa qua costata sui 300 qualcosa Settimana prossima mi arriva la nuova, la 296 Questa è più adatta per i viaggi, diciamo, vedi? Ma anche questa sui 260, 280 Poi dipende dagli option che si mettono E questo è il mio regno Il Gini Uli in platino costa sui 300 Quel monkey di Stiller Cut ha anche 450-500 Qui vengono anche per scampi, caviale, champagne Il più caro 100% pino nero sui 4.000 euro Le bottiglie, quelle speciali, le beve anche da solo L'ho bevuto l'altra sera io Questa qua ha una bottiglia a 7.000 euro Italiani che se lo possono permettere ci sono Tantissimi Secondo me il lusso è quello che non soffre Non sente la crisi E meno male Allora, dottor Prudenzano Cartello 18 I prezzi aumentano A febbraio 13% In qualche misura la corsa ha persino rallentato Però continua a aumentare Una volta si diceva che era il caro energia Adesso qual è la ragione? Guardi, io ho visto questo filmato Francamente c'era proprio Io sono un rappresentante sindacale Francamente vedere queste cose dà fastidio Perché rappresento lavoratori Lavoratori a reddito fisso Che stanno discutendo come è successo oggi Su come si deve ridurre il cuneo fiscale E adesso ci sbattono in faccia Perché poi alla fine è come sbattere in faccia Tutta la ricchezza In motiva In Senza moderazione Perché uno può essere anche ricco Però in realtà C'è anche un modo di fare le cose E questo dà fastidio moltissimo Per quanto riguarda l'inflazione Finita la questione dell'energia È ricominciata a salire i prezzi Per altri motivi Io non sono un economista Io penso che i flussi economici Sono gestiti altrove Non in Italia E noi abbiamo la necessità Di gestire quello che possiamo Nel nostro piccolo Io penso che nel frattempo Qualche decimo di punto Scenderà per l'inflazione Per effetti di vari fenomeni Di riduzione della spesa energetica Però abbiamo un problema grosso da affrontare Che è il nostro problema economico Che io continuo a dire Esiste un problema di debito pubblico Esiste un interesse sul debito Che ci spella tutti gli anni E non è la stessa cosa Che prendere i soldi del PNRR Perché quelli sono destinati Allora Paolo Panerai Quanto è effettivamente l'economia Il terreno di prova di questo governo E come la sta affrontando? L'economia coinvolge tutti quanti Realmente e non solo sul piano Delle idee o dell'ideologia O delle posizioni politiche Indubbiamente c'è un problema Che ha sottolineato bene Il Presidente di Conferi Imprese Dicendo che la problematica È quella di non avere attenzione A quello che è il problema centrale dell'Italia Che è quello del debito pubblico Un'azienda che avesse un debito Pari al 150% o più del suo fatturato Sarebbe fallita Allora Certamente Ci sono paesi Che sono Esasperati da questo punto di vista Nel senso della critica All'Italia Ma non è ingiustificata E allora Non possiamo Non pensare Che ci debba essere Un intervento Da parte del governo Su questo tema Io credo che Il Ministro Giorgetti Ci stia pensando Le soluzioni ci sono Noi siamo per l'idea Che siano messi in vendita I beni immobili Che lo Stato ha trasferito agli enti locali Che concorrono al debito pubblico Per circa 400-500 miliardi E che sono beni che in questo momento Principalmente costano agli enti pubblici Perché non è stata fatta poi una strategia Di valorizzazione E segnaliamo E lo risegnalo stasera Che c'è la prima banca italiana Banca intesa L'amministratore delegato Carlo Messina Che ha detto Che è disponibile A fare Dei fondi Immobiliari Locali Dove mettere questi beni E raccogliere La sottoscrizione Tanti sono I problemi Sempre gli stessi Che poi alla fine Anche le soluzioni Ma Raio Come sta affrontando il governo La questione economica? Intanto noi siamo In una condizione Nella quale Il nostro paese È tra i paesi con la più alta Pressione fiscale Abbiamo anche dei problemi Legati alla burocrazia C'è un eccesso di burocrazia Nel nostro paese Ed è evidente Che va integrato E va rinnovato Il sistema fiscale Che da 50 anni Non ha una riforma Complessiva Io francamente Non soltanto per posizione ideologica Ma volendo soltanto citare I dati che citava Pagnoncelli Prima Questo governo Ha un calo di consenso Nel ceto medio Eppure Nella manovra fiscale Che viene proposta Diminuisce le aliquote E tranquillizzato Da quanto sta facendo il governo Nel fronteggiare I problemi economici No 50 Sì 31 Prego Grazie Io penso Il governo Meloni Abbia annunciato Tre grandi riforme Nel corso di questo anno La riforma fiscale La riforma della burocrazia La riforma della giustizia Per esperienza personale Conosco i tempi della giustizia E sono incompatibili Con un paese normale Con gli imprenditori Che vogliano investire Uno se ha bisogno Anche di un permesso Edilizio Per ristrutturare Uno immobile Magari acquistato Da un ente locale Ci mette 3-4 anni Per arrivare in fondo E quando è pronta L'operazione Manca il mercato Perché è andato Fuori mercato C'è la burocrazia Da velocizzare C'è soprattutto Da rifare Il sistema fiscale Mi ha fatto piacere Però Prudenzano Quando ha rammentato Il debito pubblico Oggi ho chiesto Un aggiornamento Sono 2.576 miliardi Di euro Che sono Se non ricordo male 5 milioni di miliardi Di vecchie lire Non so se è chiaro Il ragionamento Cioè Gli interessi Ci mangiano Un terzo Un quarto Di quello che riusciamo A produrre in un anno Il che vuol dire Evidentemente Che è una zavorra Pesantissima Per questo Giorgia Meloni In prima persona Ha detto Dobbiamo rimettere Il debito pubblico Quanto più possibile Nelle mani degli italiani E di chi di sede in Italia Per rimanere Sempre meno ricattabili Dall'esterno Altro ricatto E conclude Quello dell'energia La vicenda ucraina Ha dimostrato Che noi siamo un paese Che non è in grado Di produrre ad oggi Energia in maniera Autosufficienza E siamo sotto schiaffo Degli speculatori internazionali E poi arriva Il mia Raquel Garzia Grazie a tutti